Crocs con caramelle, un cane a rotelle, un sombrero al formaggio e molti altri modi per portarsi da mangiare di nascosto in piscina! Guardali ora su WooHoo Woa Motion! Aha! Fermo lì! Che cosa stai portando? Non si può entrare con del cibo! Levati di torno, guarda che ti osservo! Salve! Aspetti, il suo cane è strano! Sembra un po' flacco! No, no! È un cane normalissimo! Non abbaia? Non molto! Di solito corre a basta! Alla grande, Alex! Questi sono tuoi! Aspetta tu! Che nascondi sotto la camicia? Ah, delle patatine, eh? Fa male essere ingordi! Dai no! Queste rimangono qui! Salve, girati! Niente da dichiarare? No, niente! Prego! Buongiorno! Sono venuto a prendere la spazzatura! Sì, i cestini sono intorno! Ok, buona giornata! Ragazzi, vi vanno un po' di snack! In offerta a metà prezzo! Sì, dammi le M&M's! A me le patatine! L'attività di Alex non durerà a lungo! Qualcuno si è accorto del contrabbando! Ehi, questo inseguimento è meglio di un film! Wow! È proprio veloce lui! L'ha quasi preso! Ehi, stai lontano da lì! Non ci si tuffa! Dove pensi di andare? Un attimo! Che cosa c'è? Sento odore di formaggio! Buonasera, muchacha! Te canto una bella canzion! Mi piacciono i mariachi grande! Benvenuto alla nostra piscina! Bruno è riuscito ad entrare con i suoi formaggini preferiti grazie al suo talento musicale! Disfruttete su comida! Buon appetito! Ehi, aspetti! Salve! Vuoi vedere un trucco di magia? Hocus pocus, voilà! Wow! Wow, bello! Fammene un altro! Alla kazam! Boom! No, aspetta! Non era questo! Un, due, tre! Una spada! Grande! Dammela, dammela! Sono la regina delle spade! Non mi fermerete! Sono invincibile! Buon poveriggio! Ha roba da mangiare o da bere? No, niente! Prego, scelga una sdraio! Lillian è sfuggita alla sicurezza facilmente nascondendo i dolcetti nelle sue crocs ma sembra che anche qualcun altro sia interessato alle sue calzature notare spesso mette fame e quando hai tutti quegli snack a portata di naso come puoi resistere? Ah, non è possibile! Dove sono i miei dolcetti? No! Ehi, che stai facendo? Cosa c'è nella busta? Stai male? Mi aiuta a restare calmo! Ho una paura matta dell'acqua! Apri un attimo la busta! No, grazie! A posto così! Siediti all'ombra e rilassati! Bruno può godersi i suoi dolci proibiti dopo un momento di intensa recitazione! Alex vuole usare la sua stessa strategia! Fermo, fermo, fermo! Mi sento poco bene! Mi serve una busta! Davvero? Con del cibo che esce fuori? Lascia tutto quanto! Ciao! Benvenuta! Hai roba da mangiare con te? No! Sicura? Perfetto! Entra pure! Lilian però si era nascosta a uno sneakers nel pareo ma accidentalmente gli scivola dalle mani! Che sfortuna! Ma che è? È tuo! Ma che dici? Sarai il tuo! Che schifo! Ciao! Cosa sono queste? I dolci non sono permessi! Wow 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 wow! Dove pensi di andare tu? Io sono il giardiniere! Capisco! Dai una spuntata a questo cespuglio! Le punte sono cresciute davvero troppo! E tienile in ordine! Bel lavoro! Grazie! E non dimenticare l'innaffiatoio! Ragazzi qui! Ce l'ho fatta! Nel mio innaffiatoio c'è abbastanza Coca-Cola per tutti! Ciao! Fai un giro? Ho un'occhiata se hai cibo o bibite! Hai un costume davvero insolito! Ed è l'ultima collezione di Victoria's Secret! Che bel cappellino! Grazie! Ah! Ora posso godermi la mia bella Coca-Cola intrufolata con successo! Maggiù non è così credulona come sembra! E scopre subito la bugiarda! Beh! Infrangiamo le regole! E ora cosa dovrei farci con tutta questa roba? Ciao benvenuti! Ciao benvenuti! Non di nuovo! Non puoi portare qui il tuo cibo! Che cosa non ti è chiaro? Piuttosto vai al parco divertimenti! Allora che cosa abbiamo qui? Fammi vedere! Girati! Niente dolci? Cos'è questo? Braccioli! È la mia prima volta! Bene! La piscina è laggiù! Buona fortuna! Ehi amico! Offri ne un po'! Non è mica giusto! Sul serio? Davvero volevi portare dentro il tuo dessert così spudoratamente? Vai! Forse comunque posso... No! Vai via! Ciao! Apri il tuo zaino! E l'astuccio che hai dentro? È vuoto! È vuoto! Ma che cos'hai al collo? Ciao! Vuoi una gomma? No! E dai! Ehi! Niente tuffi! Ciao! Snacks? No! Oh! Una palla! Fammi schiacciare! Come i tempi della scuola! Fatti da parte! Dove arriva questo formaggio? Bruno! È meglio che scappi! Sono davvero sfacciati! Neanche li nascondono più i dolci! Ho detto che è vietato! Ho appena aperto il pacchetto! No! Mi spiace! Non volevo! Che c'è nella borsa? Qui! Guarda! Solo crema solare! Non sembrerebbe! Forza spalmatela addosso! Su! Bene! Detto fatto! Ecco qua! Ora mi credi? Ti devo perquisire! E questo cos'è? I miei attominali! Ah! 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 No! Ecco qua! Ora puoi entrare! Almeno non mi ha guardato sotto il cappello! Altrimenti non avrei avuto nulla con cui mangiare la mia panna montata! Molto buono! Oh! Aspetta! Ciao! Cos'hai sotto l'asciugamano? Fammi vedere! Non posso! Non porto il costume! Ti tengo d'occhio! Ragazzi guardate! I ragazzi si sono ammutoliti vedendo questa varietà di snack! Andiamo! Ciao! Oh! Che bel bambino! Voglio entrare in piscina! Io voglio nuotare! Adesso! Adesso! Hai delle caramelle? Abbiamo solo secchielli e giocattoli! Aspetta! Tesoro! Eccoti una bella parchetta! Acqua! È piscina! I giocattoli da spiaggia sembrano fatti apposta per nasconderci dentro la panna! La detta alla sicurezza non si è accorta di niente! Gnam! No, no! Non puoi portare le tue patatine! Qui c'è il regolamento! Bene! In questo caso chiamo il mio avvocato! Ciao! Neanche il caffè è permesso! Ecco le nuove regole del parco acquatico! Ora non potete entrare se non avete uno snack! Cosa? Aspetta! Solo un secondo! Hai degli snack? No! Allora prendine qualcuno! Le regole sono le regole! Ora puoi entrare! Oh, signor avvocato! È di nuovo lei! Un attimo! Niente cibo! Si senta libero di prenderne un po'! Questo è per lei! E anche questo! Si diverta! Le nuove regole sono così noiose! Vi sono piaciute le nostre dritte per portare cibo in piscina di nascosto? Scrivete nei commenti se siete mai entrati da qualche parte con degli snack e come ci siete riusciti! Poi schiaccia il pulsante iscriviti, metti mi piace e clicca sulla campanella! Non perderti nessun fantastico video di WooHoo WooA Motion!